Allora ragazzi, visto che ci è rimasto male, adesso noi cosa faremo? Gli regaleremo il pass battaglia in modo tale che appena riscarica tutti i file e rientra in gioco, trova il pass battaglia. Quindi mettiamoci subito al pc. Ok, ragazzi, dobbiamo regalargli il pass perché ci è rimasto male, ragazzi. Ci è rimasto troppo male, ragazzi. Allora facciamo così in modo tale che appena, fra 50 minuti in teoria termina il download. Ok? Io parlo piano perché la casa è piccola. Fra 50 minuti termina il download, ragazzi, e gli regaliamo il pass battaglia. Lui apre l'account e trova il pass battaglia. Allora, come si fa a regalare il pass battaglia? Scusate. Pass battaglia. Donne il pass battaglia. T-S-Z. Ninja Junior. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hei. Grazie. Mini! Dai, non te arrabbiare. Apri forza, infida, ti ha finito di scaricare? Sì. Vai, apri. 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 Guarda, apri. Metti qua. Sì. Vieni qua, bro. Sì. Vieni qua. Sì. Ok? Sì. Tutto carico. Vieni, 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 vieni. Sì. Ci ha messo un po' a scaricare, ormai è buio. Sì. Allora. Tu, fra, non sei pronta. Tu, fra, ti giuro, non sei pronta. Tieni così. Guarda. Che hai dato? Va bene. Vediamo. Ma non è che c'è l'account perduto, tutte queste cose qua. No, mi chiedi di mettere il nome. Vediamo. Vai, premi. Ma? Si è cancellato tutto. No. Non ci credo, si è cancellato tutto. Oh, mio Dio, mi sa che si è cancellato tutto, fra. Se si è cancellato tutto, come facciamo? Oddio. Scusami, fra, io non volevo, fra, non voglio, scusami. Sì. Fra, io non volevo, scusami. Scusami, fra. Oddio, batteri a scarica del telefono. Batteri a scarica. Vediamo. Sì. Cosa, sì? Non va, fra. Si è cancellato tutto? Mi sa si è cancellato tutto, vediamo. Oh, si è cancellato tutto, cosa fai? Io te lo giro per non toccare. Per cosa prendi la canna? Oh. Oh. Ma? Eh, il tuo account, secondo me? Sì. Ma... 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 Ma in che senso, scusami. Ma... Vai sul pass, per spattare. Ma hai il pass? No. Vediamo? Perché non hai il pass? Non hai scioppato. Non hai scioppato? Ma provo a chiudere e aprire il gioco. Perché? Vado a chiudere e aprire il gioco e basta? Vado a chiudere. E apri il gioco, strano, Fran. Perché... Perché in teoria un uccello mi ha detto che ha mandato un regalo. Non lo so perché non va. Con un drappo... Do una... Non funziona. A posto? Non hai perso niente, visto? No. Sto preoccupato. Ma scusami, ma è strano. Non dovrebbe arrivare tipo un regalo quando si cancellano gli account. Ma è molto strano, no. Molto strano, veramente molto strano. Ma... Questa è di aprire il gioco della Play? Sì. Ma scusami, ma tu non sei TSSZ? Ma hai scelto questa? Ho scelto TSSZ Ninja. Ma prima la Play? Prima la Play? Sì? What? Non ha senso. È così. Attaccalo. Ma... Aspetta, vado assicurando. Scrimi. Cattino alto. Ma... Ma come è possibile? Ah! Della Play, della Play. Della Play. Quindi adesso devo fare due volte, due volte, devo fare due volte. Grazie. Due volte, sembra due volte. Cioè tu con i tronci vai a guadagnare. Sì, appunto. Sì, appunto. No, dai, dai, va bene, va bene, grazie. No, è la mia parte. Amici, amici. Amici come prima. A posto, battici. Però non piace più. Mi piace più. Non mi sono... Non so, non sai quanto mi sono... Oh. Mi sono spaventato. Mi sono spaventato. Oggi, pensavo che la mia vita? Vabbè, è forte. Dai, muoviti, dai, ciao. Andiamo a vedere subito. Dove è? Dove è Nintendo? Riavvia. Oh. No, riavvia. Ok. No, riavvia. Ma questa va che riavvia... Vabbè vai? Tu, 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 tu. Dai, 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 veloce, 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 veloce. E la Nintendo è questa che lenta. Due anni dopo. Anche l'ora? No, adesso adesso via. Però ti posso dire una cosa. Ti posso dire una cosa. Sono fortunato, lo sai perché? Io? C'avevo 10 euro miei. Sì. I bivocchi sono 8 euro, giusto? Io ho dato soldi a Saeed. Ah? Di sciupparmi. Ah. Ok. E alla fine ti ho regalato il passio che mi stavo per sciuppare io. Ti ho spaventato di ciao. Sì. Dove sono dicevo da me? No, ce li ha Sassa, ma è in shop auto euro. Sì, ma non ha senso. Aspetta, adesso, aspetta. Ah. Al passio? Ah, così? Proprio ti... Sì. Non arriva il regalo. Guarda come penso che ti devi bug. Guarda, guarda, guarda. Devi tenere il moto. Sì. Guarda, no, che bruvi di bug. Posta? Grazie mille. Posta. Grazie mille. Non parliamo, bro. Non parliamo.